Buongiorno, decima tappa della Via del Ferro, da Allegri a San Piero a Sieve. Adesso partiamo, andiamo su a Cupo, poi andiamo al Trebbio, il castello dove è nata la famiglia dei Medici, alla Fortezza Medicina di San Piero a Sieve e lì finisce questa decima tappa. Andiamo ragazzi, te lo faccio. Ah, abbiamo una novità stamani, abbiamo l'amico Lorenzo Ricci che ci accompagnerà fino a Bologna. Andiamo. La quale poi arrivati a Montesole ci viene a prendere, ci porta all'evento, poi ci riporta a Montesole per la cena e per il giornino. Di modo che noi, l'indomani mattina, invece di partire a Margebotto per andare a Sassamarconi... Belloccio, ti disturbo? Andiamo a Sassamarconi. Bene, ci siamo in una proposta di San Piero a Sieve, siamo davanti alla chiesa. Anche oggi abbiamo montato la nostra camminata, la decilocata e anche questo bellissimo percorso con molti, 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 molti punti visuali e molti punti. Abbiamo passato dal Treggio che è appunto il castello dove nasce la famiglia dei Medici. Abbiamo visto tutto il bucello, siamo in un bucello. Domani lo attraverseremo per andare, penso, passo questa ria buceata e la futta. Bene. Allora sciogliamo le righe. Forza! Vai ragazzi! Grazie! Grazie!